Solleva questo qui, questa è la tua protezione per il pugno, vedi? Se tu decidi di tirare un gancio sinistro qua, questo ti protegge anche, quindi quando sollevi, solleva e passa sotto, aggrappami il gomito, solleva, vedi se io qui decido di farlo, perché può partire un gancio sinistro, è anche meglio per ruotare, Sì, è vero, vedi, se ci sono coperte di questo qui te la testate, non esagerare questo qua, è questo, vedi questo, prendi, e poi te lo porti verso di te, vedi che ti dà già una cosa qui, ho questo, a cercare di ruotare, sì. Quindi, una, due, poi tiri verso di te e in basso, in questo modo qua. Questo ti serve, quando sto provando a chiapparti, ok? Quando sto provando a chiapparti, da qui, io ho il vantaggio perché ti sto allargando le braccia, quindi posso passare. Ok, le posizioni dell'avversario, sì, qui, vedi, questo io non ho tanta forza qua, ok, è una forma di controllo. Quindi cosa faccio? Qua, e io guadagno il vantaggio. Non chiuderlo, inverti la... Non ti conviene mai chiudere il braccio qui, questo è un piccolo, perché guarda, come chiudi, vedi, entra qua. Se invece tienilo largo, e da qua, fa uno di nuovo a me, così, vedi, uno, vai sui bicicletti e lo apri, vai sui bicicletti e lo apri. Da sotto, all'aria, e spiega, uno, due, ma non perderlo. Ok. Lasciare questo, vedi questo buco qua, questo è un gancio sinistro in faccia. Non prendere mai il contatto. Sì, quindi devi farlo in un modo che non perdi il contatto, vai. Adesso io provo a, tu controlli, nel modo che io provo a controlli, a passare, e blocchi, poi apro. E gioco un po' anche col busto, col busto, col busto, col boccino. E questo può essere fatto a diverse altezze, potrebbe essere fatto qua, oggi un po' più basso. Guarda. E io sto provando ad andare lì, vedi? Poi, se vuoi farlo cadere, se stanno provando a prendere questa gana, gli sposti le braccia di là. Metti io vado qua, tu sposti le braccia di là. Vedi? Puoi andare lì. Puoi andare lì. Puoi andare lì, sì. Capito? Fai capire che sei qua e poi vedi. Poi, vedi? Sì. 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 Devo tenertelo largo. Sì. Io te lo lascio entrare dentro, guarda. Vedi? Adesso le vanno al gatto. Ma non è neanche semplice, neanche così. Perché? Sì. Sì. Questo deve ritornare dentro. Sì. Non se ne fa tutto il bacino. Vedi? Ci arrivo. Questa. Vai. E lì per forza devo abbandonare questo per cercare di chiudere e per togliere questo. Deve ritornare dentro. Per iniziare tutto. Col pomolino in base, sì. Col pomolino in base. Iniziamo un Joe. Ci arrivo. Sì. 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 Ci arrivo. Sì. Col pomolino in base. Di Panettino, Di Poussimo. Yeah. Grazie a tutti